Quanti di voi si sono trovati protagonisti di storie incredibili? Alcuni non osano parlarne, altri non lo possono più fare. Tre di queste storie sono state raccolte in un unico film. Ben so di passioni, di orrori e di sangue. Qualcuno potrà riconoscersi in questi racconti che sembrano il frutto di fantasia, ma fanno parte dell'altra dimensione. Voglio stare insieme a te. Portami via di qui. Portami via. Ora è solo un sogno. Sono ormai due giorni che sei morta. Prima o poi ti troveranno. Se ti nascondessi, tra non molto, inizieresti lo stesso a decomporti.